Quest'anno abbiamo presentato qui a Bolzano, a Klimhaus, la nuova uscita in casa Zender, vale a dire il nuovo recuperatore di calore, il Confuer Q, ed è un impianto rivoluzionario, un'unità rivoluzionaria in quanto riguarda i livelli di rendimento particolarmente elevati, i livelli di rumorosità bassissimi, i livelli anche di gestione elettronica dell'unità stessa, particolarmente semplice e accessibili anche delle app dedicate, anche dal punto di vista estetico sicuramente è stato fatto un passo avanti rispetto alle vecchie unità e soprattutto rispetto alla concorrenza.